Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa 21esima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Mozilla e dei suoi problemi per quanto riguarda rischi della sicurezza. Queste settimane Mozilla si è trovata costretta a rilasciare ben due minori race di Firefox a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra. Perché ha rilasciato queste due minori race? Perché sono state scoperte delle vulnerabilità che necessitavano delle correzioni immediate. La prima era una vulnerabilità a zero day, quindi molto grave, la più grave che c'è, è stata scoperta da un membro del team di sicurezza del project zero di Google da Coinbase Security. La vulnerabilità si verificava manipolando oggetti JavaScript ed è causata da problemi in Rai Pop. Questa vulnerabilità può consentire un crash sfruttabile. Mozilla asserisce che è consapevole del fatto che sono stati fatti degli attacchi mirati che hanno sfruttato questa vulnerabilità, quindi è stata utilizzata. A distanza poi di pochi giorni, come vi dicevo, è stata resa necessaria un'altra minore race di Firefox che è andata a correggere questa volta una vulnerabilità ad alto rischio che, combinata con ulteriori vulnerabilità, consente l'esecuzione di codice arbitrario sul computer della vittima. Questo aggiornamento è già disponibile anche nelle principali distribuzioni, quindi se siete su Linux correte ad aggiornarla. Se siete su Mac OS o Windows, l'aggiornamento vi arriverà dalla procedura di aggiornamento guidato di Firefox, quindi correte ad aggiornare. Perché vi ricordo, questa vulnerabilità riguarda sia Firefox Quantum, la versione corrente, che la versione ESR di Firefox, quindi affligge tutte e due. Passiamo adesso alle notizie allegre da parte di Canonical, perché come vedremo più avanti ci sono delle notizie un po' tristi da parte di Ubuntu e Canonical. Le notizie allegre riguardano una nuova funzionalità che è stata aggiunta a SnapD. Dalla versione 2.36 in poi, SnapD supporta l'installazione paragriga. Questa funzionalità consente di disporre più istanze dello stesso Snap disponibili sul sistema, ciascuna isolata dalle altre, con le proprie configurazioni, interfacce, servizi e quant'altro. È una funzionalità molto utile se vogliamo testare più istanze e quindi per evitare di stare lì a configurare il tutto e quindi avere due cartelle di configurazione, a meglio, bisognava indicare al programma due cartelle di configurazione e quindi un casino. Con questa funzionalità ci basterà installare due versioni differenti che possiamo nominare come vogliamo. Andatevi poi a leggere su Marcos Box la guida di questa funzionalità, su come attivare il flag e su come gestire le installazioni parallele. È molto semplice, quindi possiamo avere una prima versione di Gimp, una seconda versione di Gimp, una terza versione di Gimp e quant'altro. Oppure possiamo utilizzare questa funzionalità anche per avere, che ne so, istanze diverse, di versioni diverse, che ne so, con VLC possiamo avere la versione Legge, quella basata sulla 4.0, 0.0 e al contempo avere una versione basata sulla versione stabile, quindi avere diverse versioni della stessa applicativa sfruttando questa funzionalità. È molto interessante, datevi a vedere, datevi a dare un'occhiata sul blog, come funziona il tutto. Perché poi ci sono delle informazioni un po' più tecniche, se volete approfondire. Passiamo adesso alle notizie brutte da parte di, del mondo Ubuntu, da parte di Canonical. Ubuntu ha deciso di interrompere definitivamente il supporto i386. A partire dal rilancio di Ubuntu 19.10 non saranno più compilati i pacchetti per x86 a 32 bit. Quindi, avete sentito bene, non saranno più compilati i pacchetti, quindi non significa che non verrà più rilasciata l'iso a 32 bit, ma non verrà proprio compilata più la versione a 32 bit della distribuzione. Quindi, questa decisione influenzerà sia l'edizione principale che tutti i framework ufficiali, nonché tutte le derivate che fanno uso degli archivi ufficiali di Ubuntu. Ed è una decisione ormai presa, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, è stata pubblicata direttamente sulla main list degli sviluppatori di Ubuntu e quindi di conseguenza stanno predisponendo l'architettura, i server e quant'altro. Ed è una notizia molto brutta per quanto riguarda il videogame su Linux. Perché? Perché che succede? Succede che non sarà più possibile sfruttare le librie multilibre. Questo che cosa significa? Significa che tutti i giochi su Steam smetteranno di funzionare e che non sarà più possibile giocare a questi giochi che fanno uso di multilibre tramite Wine e Proton. Valve, da parte sua, ha già comunicato tramite l'account Twitter dello sviluppatore Pierre-Loup Riffais, penso che si pronuncia così, è francese, non lo so, che Ubuntu 19.10 e le versioni future non saranno ufficialmente supportate da Steam o raccomandate ai propri utenti. Attualmente Valve sta valutando i modi per minimizzare i problemi per gli utenti esistenti e allo stesso tempo ha deciso che dirotterà l'attenzione su una distribuzione differente. Vi linko anche all'interno del blog una interessante discussione a riguardo che si sta svolgendo sul credit, dove ci sono parecchi spunti interessanti e cose un po' più tecniche, andatevi a dare una lettura. Che succederà? Succederà quindi? Steam ha deciso di tirarsi fuori, perché la situazione è complicata, quindi alcuni asserivano che sarebbe stato possibile per quanto riguarda Valve di proporre tramite Steam le librerie mancanti per far funzionare tutto, perché essendo una struttura centralizzata per il scaricamento del giochi potrebbe essere più semplice, però a quanto pare dalle prime cose che sto leggendo in queste ore non è così semplice operare questa scamotage, perché non può proporre lì le multilibre mancanti, le librerie mancanti per problemi di compatibilità con i pacchetti, rimando ai pacchetti e quant'altro. Vabbè, andatevi poi a leggere anche su Reddit, mi sembra che avrò detto anche queste cose. Il problema poi è anche per i player alternativi come GOG, che di certo non godono di una situazione migliore, perché non hanno la stessa potenza economica, ma anche potenza di sviluppo che ha Steam. Alan Pope di Canonical ha deciso in questi giorni di provare alcuni dei giochi distribuiti da GOG su Ubuntu 19.10 e purata dei pacchetti idriottosi. I primi risultati sono sconcertanti, molto sconfortanti, in quanto molti dei giochi non sono proprio partiti per la mancanza delle suddette librerie e altri invece hanno dato schermata nera. C'è da dire che, come hanno fatto notare, il fatto della schermata nera può essere legato anche al fatto che Alan Pope ha fatto questi primi test su macchina virtuale, quindi il problema della schermata nera potrebbe essere connessa a quello. Il problema dei giochi che non partono per la mancanza di queste librerie, beh quello non è risolvibile se non da Canonical, con un ripensamento, con un escamotage, una soluzione tampone, non lo so. Deve risolverla lì, se vuole risolvere questa cosa. Comunque è molto sconfortante come ho detto, perché molti miei utenti si sono lamentati al riguardo e avevano ragione. Che dire, nelle prossime settimane vi terrò aggiornati su questa vicenda. Vi invito anche a voi a tenere gli occhi aperti, se trovate qualcosa al riguardo, tweet, commenti da qualche parte, insomma, fatemeli sapere, segnalatemi, così magari aggiorno i post che ho pubblicato su blog e possiamo, con passaparola, cercare di capire di più su questa vicenda e sugli sviluppi futuri. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con la nuova puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!